Ciao a tutti dalla vostra amica! Allora, video acquisti In questo video vi ho messo qualcosina perché sono riandate per l'ennesima volta per la terza volta di maggio da Tiger e vi posso vedere dopo e vi ho messo dentro qualcosina perché già che eravamo in centro c'è Tigo Tassimo, passate a fare un giretto da Tigo Tassi la borsa di acqua e sapone infatti l'ho detto anche alla commessa le serve il sacchetto signora? no, c'è quello della concorrenza infatti mi ha guardato così e mi fa e no, non va bene è che è più di un anno che lo uso e non mi si rompe non mi si buca mai ci penso io, mi ha detto l'ho commessa no grazie ma non lo voglio un altro sacchetto allora abbiamo preso questo 99 centesimi che l'avevamo già comprati sono davvero carini questo scottes per la cucina, tutto bello fiorellino tutto bello colorato, mi piace bello 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 poi 75 centesimi ho preso tazzoletti di carta poi 99 veline, perché mancabilmente o acqua e sapone, tipo io compro le veline o alla lidla sempre utili poi al 99 abbiamo preso queste bimbi con io come si chiamano questi gli orchetti sono trols comunque si dal cartone animato praticamente poi abbiamo preso candeggina in pastiglie neutra che non mi ricordo il prezzo 2,70 2,70 dice la nonna perché ero sono andata con la nonna sole sole e noi donne abbiamo girato tutto il centro perché mi ha fatto strage poi 99 centesimi spazzolino della quando è poi c'era questo 99 della polgate erba original ne abbiamo presi due uno per Sharon e uno per Jason poi questo guarda la nonna 2 euro 2 euro che è cos'è? aspetta sì dati di detergente idratante all'estratto di malva della Cleanance poi shampoo ai semi di lino 2,90 2,90 meno male perché c'è c'è dentro lo scontrino ne è ma anche l'altro e poi la crema sempre ai semi di lino 2,99 erano in offerta se non sbaglio sì allora ecco qua poi ultima cosa che mi si è scattato adesso 99 centesimi purificante con muschio al tè bianco è un sapone di detergente per le mani per lavarsi le mani e tigota scusate abbiamo finito adesso andiamo con Tiger allora abbiamo preso questa meraviglia qua a un euro per la nostra per la nostra cuginetta piccolina che lei adora queste cose qua non so chi mi segue sa che avevamo preso anche le aluce di fatiglia coroncina così quando la vediamo poi un euro le cicche cioè poi questi che sono non lo so li ha presi la nonna ma non so un euro comunque aspettane gli ultili rossi essiccati ho letto buoni ecco questo sacchettino della nonna praticamente adesso arriva quello della nica l'ho preso piccolino ne ho detto ma ci sta dentro tutto allora ho ripreso questi perché li hanno divorati sono troppo buone due euro ok patatine al cocco ma sono la fine del mondo sono troppo troppo buone che alla fine è cocco sciccato sì infatti però è buono è misciccato con qualcosa buono poi un euro ho preso questi che sono una cinque magari qualcosa da mettere nell'agenda per fare qualcosa qualche foglio in più vengono sempre buoni poi ho preso un euro queste penne che dovrebbero scrivere tutte e due blu credo adesso ve lo dico subito sono una con le una fatta di rosa e una verde tiffani adesso vediamo sinica brava non sono penne ma sono matite a clip lake vabbè pensavo che erano penne legge menore eh sì hai ragione anche te uffi però fa niente bello stesso un euro poi un euro ho preso questi che queste qua dovrebbero essere cosa sono come si chiama come le chiama la charola non mi ricordo un nome ci sono le stabile poi ci sono le le altre che lei adora non mi ricordo non c'è charola ma cos'è la roba lì tipo quelle non mi viene a mente il nome sono delle pennine tipo pennarellino ma no cioè non le stabile tratto penne tratto penne ecco sì carine blu era quello che cercavi di ricordarti intatto eh sì tipo sono le altre che adora lasciano tratto penne ecco sì ok blu due un euro poi tre e non dico nient'altro che è meglio non dire niente in questi casi poi a due euro ma guardate cioè dovevo prenderlo dovevo fuggiarlo sulla mia scrivania anche questo è il barattolino questo qua pieno di non so quanti ce ne sono perché ti capitate che li ponte due quattro sei evidenziatori così qua piccolissimi c'è il viola il fucsia l'arancio il giallo il verde e il blu ma guardate che fuccerini due euro ho preso il barattolino bello non vedo l'ora di metterlo in postazione dritto guarda qui così c'è già il posto là che aspetta poi ho preso queste due euro che sono le striscioline di cartoncino che sì si devono fare si usano per fare quelle cattinelle qua magari una festa di compleanno fai dei corini ma io le userò come strisce da attaccare sull'agenda 2 euro sono già pronte pretagliate volete provare poi ho preso a 3 euro questi allora sono un attimo che lo apro così vi dico subito come sono le punti sono pennarellini credevo che erano più piccole le punte però non fa niente e sono quanti i colori allora 3 6 9 10 12 14 15 se c'era anche scritto vabbè io dovevo contare per far sapere che so contare perché tante volte parlo male in italiano più al 20 c'è capace più al 20 c'è arrivi 16 e ci sono tutti questi colori qua 3 euro sì 3 euro sono sicura e dai carini intanto li uso per l'agenda sempre pennarelline così li uso poi sono arrivate queste cose nuove insomma cioè allora il mio marito è fatto così quindi te ne fai due sono per Sharon allora le hanno messe a 2 1 euro oh giustamente non potevo è un affare cioè non potevo non fare 2 1 euro e credo che scrivano adesso ve lo dico subito le prendo allora il colore lui se proprio non è un problema perché sai lui dice sì 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 dopo lasciala le cose come la gente un po' bella gioia lui è più tecnologico lui vuole le cose perché vede che le prendiamo anche io e Sharon giustamente sono bambini come l'agenda sì sì faccio anch'io l'agenda sì sì voglio anch'io le penne i pastelli li compra poi non li usa più li lascia là capito perché poi lui va sulla tecnologia perché è come il suo papà è logicamente sono maschi è diverso possono affezionarsi a qualcosina così ma poi tornano sempre a quelle cose e basta e vediamo allora i colori sono questi che ci sono 1 2 3 e questa col giallo poi ho fatto il doppio di questi perché giustamente con 3 euro ne prendi 6 sono 1 euro 2 e sono carine dai colori comunque che c'erano erano questi 4 qua adesso vediamo come scrivono più che altro sono carine sono carine e allora una parte è blu e l'altra sarà rossa sempre blu le proverò poi mi fissarò far vedere se sono tutte così ah due colori dovrebbero essere due colori scusa non riesco a capire che storia sei sicura vediamo sulla scapola del dentifricio no perché hanno la cera sotto qua con il gommino allora qua nero vediamo dall'orecchietta bianca rosso sì o blu rosso che cosa così sì dai carine sono tipo quelle hanno copiato poi quelle che ci sono che vengono di legami ecco che ne ho due tre anche io legami anche a accessorare ci sono queste con le orecchiette nella collezione di maggio c'è ancora qualcosa di coccinelloso chiamiamolo così e indovinate che cos'è un correttore c'è scritto take correction allora ho detto no te vuoi ver c'è la forma di coccinella vediamo adesso lo apriamo vediamo allora dietro il liscio liscissimo forse si svita dovrebbe che figata c'è funziona ancora meglio c'è funziona però c'è vedete sì dovrebbe vediamo adesso andiamo a correggere qualcosa vediamo funzia bene ha cancellato correction dai carino due euro questo è però infatti ho detto che trovo quanti metri oh non c'è una scritta no almeno qua non c'è scritto no va bene e questo due euro deve essere mio e niente vi ho fatto vedere tutto tuttissimo altri acquisti altro giro tiger tit tutta al prossimo un bacione dalla vostra nica ciao un bacione un bacione